musica 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 che brutto che ero che brutto allora mi devo sedere allora spegniamo la oh marion ok già siamo partiti male vabbò ciao a tutti ragazzi qui a name of pro oggi siamo in un nuovo video di doc and battle episodio numero 4 e oggi se mi vedrete qui perchè voglio far veloce ecco perchè voglio far veloce non ho nessuna dragon stones e andiamo eravamo già partiti male allora qui vediamo che cosa c'è facciamo 5 verso di qui minchia che capelli allora 5 ancora aspetta che mi metto qui ok basta sto facendo il mongolo ok 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 non so cosa sto facendo vero vabbè vabbè ok che mi ha mandato il messaggio vabbè come livello di batte no dai perchè si ho colpito quello blu ok ok ho la special per coso e ho metà coso di hit special per... ormai non mi ricordo più i nomi ragazzi c'ho l'alzheimer c'ho l'alzheimer c'ho l'alzheimer ma niente da fare niente da fare non ci riesco non ci riesco ahhh ooooh una malattia aiutatemi chiamate il centro di carta 3 2 ok ehm ok oh ma io c'ho sempre questa mania che ogni taglio ogni cosa dico ok anche alla fine ok 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 andiamo con... allora andiamo con questo va bene va bene e va bene e va bene Q45.000 manco la metà KO vai avanza di livello allora oggi mi sa che non farò nessuna dragon stones c'è nessuna multisam nessuna single summon ecco perchè non c'ho i sordi eh non c'ho i sordi e mi date pure questo che vigliacchi ah poi vedrete allora per un prossimo episodio raggiungiamo i 5 like e vi ricordo di condividere raggiungiamo per favore i 5 like perchè se no non faccio più video no scherzavo se li raggiungete stava pure cadendo il telefono in massimo di oh mamma mia in un massimo di non ho fatto la special oh finisci di parlare name coglion name of coglion che c'è race oh mi distrae tutto porco 25.000 ha tolto ho già vinto ho già vinto quindi se vuoi fare un caso no niente allora e quindi intanto c'è race che sta controllando no perchè c'è un buco nella porta e quindi ok ok oh yeah pam 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 ok abbiamo finito dicevo raggiungiamo i 5 like e condividete condividete la roba più semplice da fare condividere una dragon stone sottenuta quindi ne ho due chi è ah poi vi avviso già che farò un'altra serie i tpd 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 sembra un nome stupidissimo però è tpd no 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 allora vediamo se c'è qualche torneo no allora io direi di andarne a fare un altro che ne dite si 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 brutal counter 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 attack c'è il mio preferito 6988 7000 7200 7200 7500 7500 7500 7600 7600 ultre lo questo ok no perchè io vado con il massimo di attacco perchè io che capelli schifosi che capelli schifosi che avevo Ah, c'è la sfera del drago Ok, quindi devo fare... Devo fare... Deutoria Basta Non si dicono... Madonna Non si dicono le parole Non si dicono Allora Ti muovi Devo avere un 2 e tenermelo per sempre No 3 Speriamo in un 2 entro questa cosa Ma perché cade? Speriamo... Un 5 Un 5 Il senso del 5, ditemelo Un senso di un altro 4 Ma por... Ok 3 Non 2 3 Non 2 3 Oh, 2 Qui vado sullo stop Perché tanto Oh Ok, amici Ok, amici Ho appena sbattuto la porta race Con la faccia Ok, 8000 e uno è morto 7000 No, 3000 Però è morto Però è morto 3000 Cioè Quando Hit Nella realtà Dovrebbe essere Un super assassino Che toglie un casino E qui toglie 3000 Toglie 3000 Coglio 3000 Allora Intanto mi sistemi i capelli Perché tanto Un attacco ha ucciso 7000 No, 8200 Oh, basta Sto così Oppure sto così Ecco Oh, mamma mia Sti capelli Domani me li sistemerò Tantissimo Che chiare sono? Oh niente 7 e mezza 3 Dai Fammi combattere contro Dottoria Eccolo, eccolo, eccolo Dottoria Eccolo Dottoria Capelli Tipo a stile collegio Ce li ho Ve lo consiglio di guardare Rai 2 Collegio Numero 2 Bellissimo C'è, c'è, c'è Roberto Ma Scrivete nei commenti Se Chi di voi Segue il collegio Allora Qui cosa facciamo? Andiamo sul verde Non possiamo fare nulla Eh, magari qui Potevamo avere tutto Sto viola Potevamo fare la La finale Di Junior 3000 ha tolto Oh Non mi aspettavo Che Majin Buu Togliesse Così tanto C'è, senso Ha tolto 11.000 Era Era It's over 9000 Dai Almeno metà Oh Superattacco Sì Ma tanto sarà morto Ci scommettiamo che sarà morto entro Il superattacco No Oh che culo Time skip Secondo me toglie 22.000 Secondo me No Di 10.000 Mi sa che devono fare un po' di aggiornamenti Andiamo la sfera del drago Uno e due Sì Sfera del drago Numero due Sì Nel Arrarrr Ti ricordo Dodoria che Primo o poi ti ammazzo Per quella parola Che hai detto Oh c'è Freezer Nella prossima puntata giocheremo contro Freezer Bella puntata che è stata questa No scherzato Stato uno schifo Soprattutto i miei capelli Sono stato uno schifo Allora Vabbè Io direi che per questo è il video è tutto Qui neanche Sono ancora arranci Oh due dragostons Aspetta No Non dirmi che ne avevo due Ma ne ho quattro Ne ho quattro raga E vabbè Oh So Oh